Il video per il video dei 200 anni di consolato Erano 11 interviste, lunghe diversi minuti, molti minuti Ed erano in posti diversi, con gente diversa e anche suoni di sottofondo diversi Penso la vera sfida era una questione di precisione Io diventerò c'era Di dare armonia a tutti questi contesti differenti E farlo sembrare come un insieme comune Io mi chiamo Steven Williams Vengo dagli Stati Uniti La città di Washington DC Assurda anche la questione dell'audio Perché alcuni posti sono stati fatti in palazzi tipo antichissimi Fra, si sente come se fossi in fondo al tunnel? Virginia Crowley Io ho un'agenzia di comunicazione qui a Bologna che si chiama Bees Communication Alla fine l'intero materiale l'abbiamo suddiviso in 5 video Mi chiamo Julie Way Costantino Marmo Io mi chiamo Giacomo Guilezzoni Io sono Angela Lorenz Mi chiamo Megan Clancy Sono di Chicago Raffaella Baritono Mi chiamo Caroline Lupecini Qui tre più grandi che contenevano la maggior parte delle interviste E poi altri due tra cui un saluto di Marco Bellinelli Ciao a tutti, sono Marco Bellinelli e sono qui a San Antonio Sono qua in America ormai da tanti anni, da 2007 Sì, in ogni caso è stato molto utile Perché c'erano tantissimi problemi E quindi in qualche modo andavano risolti E quindi sicuramente ha aiutato un sacco le mie capacità di problem solving Almeno nel montaggio video Però potevo prenderla molto peggio Io ti giuro che quando lo conosco una questa casa Ma non è bella? No Ma come? Veramente? No